C'è una panchina che può accoglierla? No, non lo so, il calcio è strano, comunque fai bene, c'è sempre qualcuno che ti passa davanti, quindi quello è un problema ma diventa l'ultimo perché è un mondo che conosciamo, quindi si è alla finestra e poi quello che succede, succede. Questo Pescara come lo ha trovato? Qual è il bilancio che fa Giacomo Di Cara dell'ultima stagione? Una stagione che era nata un po' così, senza grossi clamori, la squadra all'inizio ha dimostrato di poter ambire al salto di categoria, non ci è riuscita per poco, è stato un peccato perché poi quando arrivi lì ti viene sempre l'appetito, sicuramente verrà allestita una squadra anche per l'anno prossimo per fare bene. Ecco, è stato scelto Luciano Zauri, proiettato dalla primavera alla prima squadra, non è la prima volta che il Presidente Sebastini sceglie il tecnico della primavera, che giudizio dà di questa scelta e di quello che sarà il futuro di questa prossima stagione? Io nelle scelte della società sinceramente non mi sento di mettere bocca, La società dei piani ha un suo modo di gestire questa società, lo sta facendo benissimo, negli anni ha dimostrato di saperlo fare, quindi si è scelto Luciano Zauri perché probabilmente ritiene l'allenatore valido per la categoria, per la squadra e per l'idea del Presidente, di tutta la tecnica, quindi assolutamente la società deve fare le sue scelte e le sta facendo in maniera molto positiva. Dopo i trionfi da giocatore all'epoca di Galeone, Giacomo Di Cara sogna magari un giorno di poter allenare, di essere nello staff della Pescara Calcio, nello staff tecnico? Ma quello l'ho sempre detto, io qui ci sono nato, sono stato lì in curva, poi sono passato in mezzo al campo, tra virgolette mi sento parte della storia del Pescara perché ho fatto parte delle due promozioni in Serie A, tra virgolette è l'unica squadra che si è salvata fino adesso nella categoria maggiore, quindi il sogno è quello di averci giocato e quello di un giorno di poterlo magari allenare, ma questo non lo so se sarà un sogno che rimarrà nel cassetto o prima o poi succederà veramente.